Siamo da sempre. Abbiamo cominciato a giocare insieme, le scuole insieme, i giochi sotto il cortile d'estate insieme. Poi io mi sono innamorata di un ragazzo che lei mi ha presentato e che poi è diventato mio marito. Le nostre vite si sono continuamente intrecciate. Io considero Migli una sorella. Stamattina, guardando tra le cose, ho trovato delle foto dei bambini quando erano piccoli, piccoli, piccoli. Insieme ce n'è uno addirittura che c'è il nevio che li tiene in braccio. Guarda qui. Che emozione. A me quando rientro in questo giardino è sempre un'emozione particolare. Guarda qui che profumo d'aranci. E noi siamo qua. Ancora una volta. Quando eravamo ragazze uscivamo spesso, andavamo in giro per Roma. Ora era parecchio tempo che non ci concedevamo un pomeriggio proprio di chiacchiere, di ricordi.